Ciao a tanti ragazzi, bentornati sul canale dunque quello che state per vedere, piccolissima, piccolissima introduzione è sempre un video che mi è stato richiesto in particolare mi è stato richiesto da Federica e che come sempre saluto e qui manda un bacione è un roleplay di promumeria io mi concentrerò più che altro sui prodotti per il viso ma patta le ciance, vi lascerò il roleplay ciao questo va a te questo pure questo rimane a me e questo ormai è uscito di stagione ciao ciao, certo, dimmi tutto sì sì, io mi occupo del reparto per il viso sì, ti hanno mandato per la persona giusta quindi avevi bisogno di diversi prodotti sì sì, in teoria abbiamo tutto dimmi tu da cosa vuoi cominciare? allora io come acqua micellare ti farei vedere le due che vendiamo di più sono entrambe biologiche e totalmente naturali ecosostenibili e soprattutto certificate allora la prima che ti faccio vedere è questa qui è un'acqua micellare biologica a tripla azione con estratto di magnolia succo di arve ed estratto di rosa damascena sì allora come vedi è un prodotto certificato sono 200 ml e questa è indicata per tutti i tipi di pelle tu che tipo di pelle hai? ok quindi fondamentalmente è una pelle mista giusto? va bene allora qui ti c'è una soluzione semplice ed efficace per affrontare la detergenza quotidiana senza aggredire la pelle anche la più sensibile un solo gesto tre azioni differenti un'azione struccante intensiva una detergente delicata e grazie al particolare pool di attivi una idratante sì questa qui non ti secca la pelle però non te la va nemmeno ad ungere particolarmente perché non contiene grandi quantità di oli e questi sono 200 ml ok l'altra che ti vado a far vedere è in un formato leggermente più piccolo questi sono 150 ml è comunque anche questa certificata e questa ha due azioni non tre come l'altra dice che deterge e strucca quindi tecnicamente rispetto all'altra manca la funzione idratante però ti dico la verità contenendo comunque olio di argan nemmeno questa ti va a seccare particolarmente la pelle anzi ti leggo quello che dice grazie alla delicata efficacia delle micelle questa acqua micellare deterge e rimuove il trucco dal viso ed è indicata per tutti i tipi di pelle una formula a tutta bellezza resa preziosa dalle proprietà certificanti dell'olio biologico di argan come i prodotti si assomigliano nel senso che fanno la stessa funzione se vuoi ti faccio sentire il profumo ok ok quindi preferisci questa qui d'accordo te la tengo da parte poi mi dicevi che ti serve anche un siero giusto ok ok quindi volevi un siero idratante non troppo pesante ok allora io te ne farei vedere un paio il primo è questo qui è un siero viso rivitalizzante ed è composto per lo più da aloe vera acido ialuronico e anche questo è con l'olio di argan ha la sua pratica pompetta ora in questo caso non esce il prodotto perché il tester è praticamente finito comunque eccolo qui questa è la consistenza del del siero quindi è molto molto leggero è molto gelatinoso ha la consistenza praticamente del gel d'aloe vera si assorbe subitissimo e lascia la pelle subito distesa compatta l'odore è quasi nullo sta leggermente di argan ma proprio una puntina non è un odore forte questo è molto leggero ed è perfetto come base trucco l'altro che ti voglio andare a far vedere è un siero purificante questo qui è adatto a pelli grasse e impure e comunque va bene anche per le pelli miste soprattutto se poi sopra il siero ci amplichi comunque buona crema l'applicatore di questo è con il contacuocce è fatto in questo modo con questo pulsantino prelevi il prodotto nell'applicatore e poi premendolo lo rilasci la consistenza è più o meno la stessa è sempre quella di un gel e anche questo si assorbe subito 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 questo all'inizio lascia la pelle un po' piccicosa poi però si asciuga e diventa sempre perfetto come base trucco questo se vuoi sentire l'odore si è un po' più forte perché contiene degli oli essenziali in particolare qua c'è scritto che contiene olio essenziale di limone infatti si sente e di rosmarino che sono entrambi gli oli che aiutano a purificare la pelle e a tenere a bada insomma il lucido senti come nasce la pelle liscia ok sei un po' indecisa guarda se vuoi intanto li lasciamo da parte poi ci pensi su va bene ok poi la parte secondo me più delicata è quella della crema perché se hai bisogno di una crema da mettere tutti i giorni è il caso che sia una buona crema altrimenti insomma una crema poco efficace potrebbe andare a seccarti o ingrassarti la pelle allora siccome sta arrivando la stagione fredda e pur avendo una pelle mista magari hai bisogno di un po' di idratazione in più un po' di nutrimento per la pelle che si va a rovinare con il vento e il freddo io ti faccio vedere tre prodotti partiamo da questo allora ritorna il tema dell'olio tercano perché devi sapere che l'olio tercano è uno di quegli oli molto molto nutrienti ma allo stesso tempo che non vanno ad appesantire la pelle quindi è perfetto per le pelli miste anche questa è certificata biologica e questa dice idratazione per tutta la giornata con questa emulsione leggera che esavrutta le proprietà benefiche dell'olio biologico di Argan ricchissimo di acidi grassi e vitamine E e A un solo gesto per una pelle idratata e vellutata questa crema ha il pregio di non essere troppo pesante chiaramente ne basta davvero poca e secondo me può essere perfetta per il tuo tipo di pelle in alternativa se vuoi una crema un pochino più corposa ti posso proporre questa che è della stessa linea dell'acqua micellare che hai scelto poco fa questa è una crema viso bio idratazione intensiva con estratto di magnolia salice e rosa damascena è certificata anche questa allora qui dice un'emulsione versatile capace di accontentare le pelli più esigenti una texture ricca e cremosa che si fonde immediatamente sulla pelle con assorbimento veloce formulata al fine di rispettare il naturale equilibrio idrolipidico della pelle vaporendo l'idratazione senza lasciare la pelle unta anche questa è perfetta per le tue esigenze però è leggermente più corposa leggermente più pesante se vogliamo dell'altra sul viso l'olio altrimenti come ultima proposta ho questa qui che è sempre con l'olio di arcan è una crema nutriente e antietà so che tu sei molto giovane e non hai bisogno di creme antietà però ti dico la verità meglio prevenire che curare sicuramente una crema antietà è più utile prima della comparsa delle rughe piuttosto che dopo allora la scatola è molto bella ed è ancora più bello il pec interno è un pec super super minimal fatto in vetro con il tappino nero in plastica però è molto bella perché senza nessuna scritta fatta eccezione per la composizione qua sotto non ha scritte è liscio 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 e poi secondo me le confezioni in vetro sono sempre belle da vedere in bagno questa pur essendo molto nutriente in realtà è quasi più leggera delle precedenti sulla pelle e lascia la pelle subito subito davvero molto molto liscia ti faccio vedere come si presenta all'interno ha questa protezione che adesso è rimasta incollata sul tappino e poi la crema è fatta così vedi non è molto molto corposa è abbastanza leggera al tatto e la profumazione puoi sentire tu stessa è davvero davvero delicata ti piace questa è una delle mie preferite allora allora prima di prendere una decisione ti leggo anche qui le caratteristiche della crema allora qui dice la nuova crema viso all'Arcan Bio Green Selection studiata specificamente per nutrire e combattere i segni dell'invecchiamento ha un laterale effetto energizzante è indicata per ogni tipo di pelle poi qua si dice che l'olio di nocciolo di mandorle e di oliva proviene da piante coltivate in Italia da agricoltura biologica si ti piace questa l'avevo capito quando l'hai annusata ok quindi tengo da parte questa poi avevi bisogno di altro si ah quelle che poi si levano come una pellicola ne ho due di quelle nere ne ho due che sono molto simili però sono in un formato differente allora ti faccio vedere ho questa qui questa qui è un flaccone grande perché sono 100 ml qui la apri normalmente poi spremi e vai a prelevare il prodotto con un pennellino o quelle dita come sei comoda tu di questa ne basta un velo sottilissimo perché altrimenti non si asciuga più quindi più che essere nera diciamo che è grigia e si è molto efficace si si funziona come tutte le altre come tutte le altre maschere pil off qui dice la maschera nera pil off grazie ai principi attivi del carbone vegetale dal bambù purifica la pelle garantendo l'assorbimento del sabo in eccesso il risultato è una pelle luminosa pulita ed una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza si questa qui tra l'altro costa meno di 3 euro quindi per un flaccone così grande secondo me ti vale la pena provarla in alternativa ho anche la bustina fatta così questa qui è comoda perché si può richiudere con il tappino sono 20 ml dovrebbero bastarti per all'incirca 3 4 applicazioni dipende poi se le fai complete o se le usi solo nelle zone critiche comunque è comoda magari per viaggiare diciamo che secondo me a casa è più pratico il flaccone quello grande però tutto sommato anche questa qui è validissima è più scura rispetto all'altra e anche se ne usi uno strato leggermente più spesso si solidifica si asciuga bene e riesci a strapparla molto bene invece con l'altra devi dosare davvero molto bene ma volendo vedere non è neanche un difetto perché meno ne utilizzi più ti dura no? esatto comunque abbiamo anche questa questa è pratica per i viaggi secondo me oxy peel off black mask è una maschera viso purificante che agisce delicatamente sulla pelle garantendo una pulizia profonda la sua formula arricchita con ingredienti efficaci e delicati carbone vegetale e succo di aloe vera dona alla pelle un effetto purificante lenitivo e tonificante grazie alla sua scorrevolezza la black mask si adatta facilmente alla superficie della pelle trattenendo sebo in eccesso impurità e punti neri una volta rimossa dal viso lascia la pelle levigata e omogenea donandole tono e morbidezza assoluta qui ci sono anche i disegnini in cui ti spiega come applicarla quanto aspettare come rimuoverla e come lavarti il viso da eventuali residui ti convince di più la taglia più grande si effettivamente risulta più comoda quindi hai pensato a quale siero ti interessa di più ok quindi ti do questo qui purificante va bene allora adesso ti imposto tutto ti faccio un conto e ti regalo questo nuovo campioncino che c'è arrivato oggi che è una crema termopurificante con estratti di propoli rosmarino e salvia che contiene olio essenziale di rosmarino magari può tornarti utile avendo una pelle mista te la faccio provare magari se ti piace la prossima volta ci fai un pensierino d'accordo ti prendo un sacchetto di rosmarino di rosmarino di rosmarino